Ben trovati con il nostro appuntamento di Irpinia a lavoro, siamo ormai in dirittura d'arrivo. Le votazioni del 4 marzo sono prossime, sono a qualche giorno di distanza, eppure noi siamo ancora qui a chiacchierare per darvi l'occasione di farvi un'idea di tutto quanto viene proposto, dei vari schieramenti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il candidato al plurine nominale per la Camera dei Deputati, con lei Giovellino Benevento, con il Partito Democratico Valentina Paris, tra l'altro deputata uscente del PD. Buonasera. Valentina Paris, subito una domanda un po' scomoda. Lei è deputata uscente e tra l'altro si diceva molto vicina a Renzi, agli ambienti, le stanze dei bottoni del PD come le definiva qualcuno, eppure la troviamo solo al numero 4 candidata come ultimo esponente della lista del PD al plurine nominale. Perché? Perché ovviamente quando il PD organizza la propria rappresentanza sul territorio deve fare le valutazioni che, come dire, compongono un assetto regionale non sempre facile. In Regione Campania la mia area politica dentro il PD è quella che ha sostenuto Renzi in momenti molto importanti e anche quella che più di una volta è andata in conflitto, per esempio, con l'attuale segretaria regionale. Ma queste sono oramai cose del passato. Quando si compone una lista, a volte anche a chi è più vicino e più rappresentativo del PD si può chiedere di stare in coda proprio per spingere di più. E questo è stato il lavoro che io ho fatto in queste settimane e quello che continuerò a fare. Il PD è l'unico partito che oggi può continuare a dare speranza all'Italia e ovviamente chi è classe dirigente non fa le campagne elettorali solo in base a dove è candidato. Diciamo che di solito l'argomento politico lo affronto nella seconda parte, però un'altra domanda mi ha fornito un assist. È vero candidata al numero 4 e lei diceva per esigenze varie lasciava trasparire anche qualche problema che c'è stato nel momento della compilazione delle liste. Qualche suo non sostenitore, non lo chiamo avversario in zona, diceva che la candidatura della Paris a posto numero 4 è anche risposta al fatto che in 5 anni ha fatto e si è spesa poco per il suo territorio. Ma io ho sempre pensato che chi ha lavorato per l'Irpinia, pensando che l'Irpinia si salva da sola, ci ha portato a disastri, all'autoreferenzialità delle classi dirigenti e ad un territorio che tristemente oggi si lecca troppe ferite. Io credo di aver lavorato per il Paese e per l'Irpinia più di quanto ha fatto probabilmente anche chi mi ha preceduto nel Partito Democratico e sono quarta proprio perché a differenza di altri non faccio passi indietro legati alla mia posizione personale. Continuo a far vincere il Partito Democratico. Parliamo di Irpinia, non viviamo un bel momento, una situazione particolarmente felice, anche se le cose iniziano a muoversi nel verso giusto dopo anni bui e lo vediamo anche con una ripresa produttiva. Però tante fabbriche hanno chiuso, tanti posti di lavoro ancora persi, giovani che vanno via, insomma non certo un idillio per questa provincia. C'è ancora la possibilità di frenare questa crisi, di operare in controtendenza e come? Guardi, sicuramente lo stato attuale delle cose e del racconto del nostro territorio non dà ai cittadini irpini la possibilità di guardare al futuro con grande ottimismo. E però nel mentre noi dobbiamo raccontare quello che invece è stato fatto e se io penso solo al fatto che finalmente la Regione Campania istituisce le cosiddette ZES, che sono le zone economiche speciali di cui noi facciamo parte e che offriranno a chi fa impresa dei vantaggi e degli sgradi per investire. E dall'altro lato abbiamo messo in campo proprio a partire da quest'anno una misura importantissima che è il resto al sud, proprio per dire a chi nasce nel mezzogiorno, che anche qui si può provare ad investire e a fare impresa, e lo diciamo soprattutto a coloro che hanno entro i 35 anni di età, perché tra i 18 e i 35, che è una fascia d'età troppo ampia e non si è tutti giovani allo stesso modo, però si può dire a quelle generazioni che noi abbiamo fatto scelte per sostenere loro, i loro investimenti, le loro idee creative. E questo lo abbiamo fatto mettendo a disposizione tutta l'organizzazione delle istituzioni nazionali e lo abbiamo fatto proprio pensando all'Irpini. Oggi lo chiedevo anche ai suoi colleghi candidati, che nelle scorse puntate sono stati qui nel nostro salotto di Irpini a lavoro. Si nota un pizzico di rassegnazione in questa provincia, cioè le fabbriche che chiudono i lavoratori ormai dopo la battaglia dei ragazzi dell'ex Irisbus non si avvertono quasi più, non ci sono proteste, i ragazzi vanno via per studiare all'università e sanno già che non torneranno nei loro luoghi di origine. Perché accade questo e come si ferma questa emorragia che rischia davvero di portare alla desertificazione questi territori? Io credo che noi abbiamo due livelli differenti di problema da analizzare. Noi abbiamo avuto una relazione con Fiat quando era proprietaria dello stabilimento ex Irisbus e rispetto a quel rapporto con quell'impresa il governo ha detto con estrema nettezza che non c'era la possibilità di chiudere e di andarsene come se nulla fosse. Ci sono state tante altre vertenze in Irpinia in cui molto probabilmente non solo c'è stato più scoramento da parte dei lavoratori perché ovviamente i lavoratori hanno vissuto con più disagio l'isolamento, la stanchezza, l'impossibilità di trovare anche un tavolo in cui quella vertenza venisse discussa e questo è sicuramente uno dei ritardi che la politica ha compiuto ma ci sono stati anche tanti imprenditori che hanno pensato bene di imbrogliare le istituzioni e quindi di lasciare lavoratori senza nemmeno la possibilità delle coperture della negoziazione della Cassa Integrazione. C'è chi oggi sta per finire la Naspi e non sa effettivamente cosa sarà del proprio futuro. Su questo politica e sindacato ovviamente devono ripristinare una modalità di lavoro insieme. Io credo che il Partito Democratico sia l'unico soggetto che ha fatto questo in questi anni e questo è uno dei pezzi che va ripreso anche in Irpinia. Dall'altro lato invece c'è un livello che è quello dei più giovani che secondo me legittimamente pensa di poter affrontare il mondo con un occhio diverso e anche il legame con il nostro territorio è un legame che non può essere una gabbia. Noi dobbiamo fare in modo che l'Irpinia non sia solo un posto da cui non si va via ma diventi un posto in cui vale la pena venire e io credo che aver individuato misure di investimento ad hoc, aver ripensato anche ad un modello di turismo sostenibile, aver pensato al crocevia dell'alta velocità, aver ripensato a questo territorio come un territorio che effettivamente può accogliere, allora è l'unica strada non tanto per trattenere chi qui è nato ma per accogliere chi questi luoghi non li conosce forse può amarli se noi lavoriamo più e meglio come abbiamo fatto in questi anni. Qualcuno proprio in virtù di questa crisi che si è vissuta negli ultimi anni parlava anche di un fallimento del progetto del posto terremoto di industria e montagna ma è realmente così, questo territorio è lontano dalla possibilità di ospitare grandi aziende abbiamo visto la crisi ex irisbus ma si vivono momenti non felici e si sono vissuti anche alla FMA o davvero può diventare un catalizzatore e può ospitare altri insediamenti industriali? Guardi, è molto interessante la sua domanda perché secondo me consente di approfondire due aspetti l'industrializzazione del nostro territorio è stata a mio avviso fondamentale ho avuto anche il piacere, la possibilità di visitare qualche mese fa proprio con il sottosegretario Claudio De Vincenti una delle aziende che ancora mantiene livelli di occupazione molto alti proprio in Altirpinia e credo che noi a questo non dovremmo mai rinunciare e però è anche vera una cosa che si diceva già negli anni in cui si lavorava a questi insediamenti produttivi pensare che in 118 comuni ogni amministrazione comunale possa avere un'area PIP che poi non dà i finanziamenti necessari per infrastrutturare è chiaro che non rende possibile per le imprese venire a fare investimenti di lunga durata allora uno degli obiettivi evidentemente per chi guarda a questo territorio con un po' più di amore e non con la conservazione del proprio campanile deve essere spingere le amministrazioni comunali a rifare sistema per fare in modo che le nostre aree in cui immaginiamo di accogliere chi fa impresa siano aree effettivamente servite e non siano alla mercè di chi governa oggi o domani un ente pubblico che magari una volta svende i capannoni e la volta dopo intorno a quei capannoni non ci sono nemmeno le illuminazioni Ecco lei faceva riferimento alla EMA che è una delle poche realtà importanti di questa provincia Anche la Ferrero se posso permettermi Sì Io ho visitato quella, non l'ho voluta citare Ah ma io avevo fatto riferimento anche alla EMA perché pensavo che Sono stata anche lì Perfetto Perché sono due realtà importanti una del metalmeccanico, una del lago alimentare presente in Alta Erpina Parliamo però di industria delle un autobus perché è stata forse l'avvertenza emblematica di questo quinquennio al governo del Partito Democratico e dei suoi alleati È stato sempre, Renzi lo ha sempre detto, abbiamo risolto il problema della exilisbus In realtà l'azienda di fatto non è ancora ripartita a regime I lavoratori ieri c'è stato, qualche giorno fa c'è stato un confronto al Ministero L'ultimo confronto al Ministero dello Sviluppo Economico C'è ancora qualcosa che non va anche se il governo si sta spendendo molto A riguardo il Partito Democratico può mettersi la stelletta di chi ha risolto l'avvertenza Oppure parlare di avvertenza risolta oggi è dire forse troppo E davvero ha ragione chi dice che l'avvertenza è tutt'altro che risolta? Ma dipende da come analizziamo l'avvertenza I lavoratori della exilisbus a me insegnarono all'epoca che quella avvertenza aveva una forza in più perché era un'avvertenza sociale Cioè i lavoratori si sono sempre rifiutati di fare solo un'operazione che fosse di rinegoziazione di una cassa integrazione piuttosto che di una personale mobilità E su questo hanno tenuto e l'hanno spiegato alla politica La politica si è fatta carico di affrontare quella avvertenza sociale dicendo che quel polo industriale è fondamentale per quest'area territoriale Oggi noi abbiamo bisogno di fare un altro passo in avanti che in parte è stato fatto perché questo governo ha rifinanziato ovviamente la modernizzazione del nostro parco automezzi che ovviamente se non fosse stato rifinanziato non avrebbe dato un mercato nazionale ad un'azienda come Industria Italiana Autobus Oggi noi abbiamo la necessità di misurare la credibilità di chi fa impresa e la volontà delle istituzioni a continuare su questo progetto Un'avvertenza sociale come quella di Valle Ufita è un'avvertenza che ciascuno di noi potrà dir compiuta e potrà ritenersi davvero soddisfatto quando quello diventerà davvero uno degli snodi retroportuali e di scambio più importanti del nostro mezzogiorno La cosa importante per noi è che abbiamo vinto rispetto ad una visione e su questa visione ha tenuto soprattutto il Partito Democratico Questo lo rivendichiamo con orgoglio Ecco, proprio in quella zona, lo diceva lei, è prevista la zona economica speciale è previsto lo snodo ferroviario dell'alta capacità Napoli-Bari è prevista la piattaforma logistica Insomma, da qui a qualche anno Valle Ufita potrebbe diventare un snodo strategico non solo per lo sviluppo dell'Irpinia ma un po' di tutte le politiche economiche e finanziarie del mezzogiorno C'è però ancora da aspettare, da dire ai giovani continuate ad avere fiducia ma i giovani hanno davvero fiducia, c'è possibilità di aspettare o rischiamo che questi progetti paradossalmente si possano concretizzare quando in questo territorio già non ci sarà più nessuno? Ma fortunatamente il nostro non sarà mai un territorio in cui non c'è più nessuno perché io credo che comunque... Parlo chiaramente di percentuali molto basse di giovani che ancora vogliono crederci Ai giovani che vogliono credere in una possibilità di futuro in questo territorio io mi sento di dire che la speranza rimane viva se noi abbiamo chiara qual è l'idea che abbiamo del futuro di questo territorio Io ho cominciato a fare politica nel 1997 con una tessera di partito e all'epoca l'Europa parlava di due corridoi strategici per l'Italia il corridoio 5 che è quello che attraverserà il Piemonte e porterà poi verso la Francia e il corridoio 8 che è quello che riguarda il nostro pezzo di territorio Pensare che dal 1997 al 2018 ho avuto l'onore di far parte della legislatura che ha scritto un emendamento per far sì che ci fosse una stazione logistica proprio nella nostra terra allora sì, questo secondo me è uno di quei messaggi di speranza che vanno dati se noi ovviamente lavoriamo bene sull'idea che abbiamo di sviluppo del nostro territorio e io credo che se c'è una cosa su cui non dobbiamo lasciare spazio ad approssimazioni è proprio quella tendenza a dire che la politica non serve e che tanto le cose non possono cambiare io credo che lavorare sul corridoio 8 fosse nostro dovere e un'esigenza strategica per il mezzogiorno per l'Italia e per l'Europa ci ho sempre creduto e credo che ci vorranno magari anche 5 o 6 anni per avere la stazione logistica ma il punto non è ovviamente quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi oggi è quanto ci impegniamo per fare in modo che intorno ci sia davvero la possibilità di crescere tutti La provincia però non è solo Valle Ufida, molto spesso parliamo ultimamente soprattutto di Valle Ufida però c'è anche la città capoluogo, c'è anche tutta un'altra area che comprende 118 comuni che comunque rivendica attenzione, rivendica investimenti, rivendica infrastrutture perché dobbiamo dircelo, le infrastrutture lei avrà girato come tutti i suoi colleghi la provincia la tirano non solo dal punto di vista industriale ma anche dal punto di vista materiale le strade, per non parlare di linea ferroviaria, davvero i cittadini hanno di che lamentarsi è evidente che la manutenzione della nostra viabilità interna lascia tanto a desiderare quello che però io mi sento di dire, proprio perché ho avuto il piacere in questi anni di girare l'Italia in lungo e in largo tra l'altro ormai parlate tutti di rally e con le nostre strade ci siamo beh assolutamente, devo dire 5 anni fa sotto la neve non era tanto diverso quello che oggi però noi dobbiamo dire è che l'inversione di tendenza di questi 5 anni è stata ovviamente fare in modo che anche la manutenzione rispetto alle vie provinciali che ad un certo punto erano quasi rimaste in un limbo, nessuno se ne faceva più carico non è competenza dell'ANAS, le province non hanno abbastanza soldi tutto quello che resta senza una chiara responsabilità ovviamente rischia di cadere nel dimenticatoio questo è stato un po' il problema di tutta la nostra dorsale appenninica a tutte le latitudini vi assicuro che persino in Umbria piuttosto che nella bassa toscana le strade provinciali hanno avuto un po' di problemi allora ovviamente oggi il nostro tema qual è? quello di verificare se attraverso l'istituzione provincia c'è ancora la capacità di occuparsi effettivamente del manto stradale e della viabilità provinciale o se non è tempo di cominciare a valutare che tutto questo passi ad una agenzia terza in questo caso evidentemente l'ANAS che possa garantire una maggiore cura della nostra viabilità interna ecco la mia domanda non era finalizzata a capire Valentina Paris piuttosto che un deputato della Repubblica cosa pensa del sistema statale erpino ma soprattutto per parlare anche di quello che è stato il referendum del dicembre scorso dove ha prevalso il no e tra l'altro dopo quel referendum sostanzialmente non si è arrivati più all'abolizione delle province che sono rimaste degli enti a tutti gli effetti vivi e operanti sul nostro territorio però come diceva il presidente della provincia di Avellino Domenico Gambacorta qualche settimana fa è vero che le province esistono ancora però ci hanno lasciato la gestione delle strade e degli edifici scolastici superiori però non ci danno le risorse per occuparcene scaricando quindi sempre le responsabilità sul governo centrale a riguardo a che cosa si vuole fare? le province hanno ancora modo e hanno ancora motivo di esistere per occuparsi di cosa e avranno le risorse per farlo o continueranno ad essere degli enti esclusivamente per non so come definirli esclusivamente di immagine stanno lì senza avere nessuna operatività sul territorio se posso permettermi una breve digressione quello che è accaduto alle province italiane è stata prima di tutto una violenta aggressione mediatica di chi a un certo punto li aveva definiti una casta per cui persino Monti pensò che potessero essere abolite con un colpo di penna noi abbiamo fatto un altro tipo di lavoro perché avevamo in testa di riformare un po' l'organizzazione e tutto l'architrave istituzionale di questo paese ovviamente sappiamo come è andata e non torno su una ferita che per tanti di noi è rimasta aperta è chiaro che oggi noi come Partito Democratico che abbiamo provato a ridisegnare l'organizzazione amministrativa e istituzionale dei nostri territori riteniamo che proprio le province debbano essere la casa dei comuni noi abbiamo oggi un organismo provinciale che deve avere come obiettivo quello di essere il luogo attraverso il quale si riorganizzano le politiche e i servizi degli enti locali perché è chiaro che proprio in una provincia come la nostra 118 realtà comunali se non mettono insieme i propri servizi e non ragionano di area vasta e area omogenea all'interno della propria organizzazione diventeranno solo comuni che si lamenteranno tra un po' di dover fare le pluriclassi allora quello che noi abbiamo immaginato e anche sulle strade abbiamo fatto un lavoro perché la lamentazione dei presidenti delle province per me che me ne sono occupata è assolutamente legittima ma noi abbiamo lavorato in tutte le ultime tre leggi di bilancio proprio per evitare che le province dovessero pagare interamente un debito gravato solo sulle casse delle province abbiamo fatto in modo che tutto quello che era stato evidentemente ridimensionato fosse invece sanato proprio per dare la possibilità a loro di svolgere le funzioni essenziali che sono ancora di loro competenza dopo la del Rio ovviamente in questo momento c'è da capire se c'è una classe dirigente che vuole fare davvero sistema per riformare l'organizzazione dei servizi o se invece vogliamo tornare indietro e quindi ripensare che dobbiamo fare le elezioni dei consiglieri provinciali e che ognuno deve rimanere dentro il proprio campanile anche perché diciamocelo con le province che sono ridotte a svolgere servizi marginali i poveri cittadini, i poveri amministratori di un comune di confine come in Irpinia ce ne sono tanti mi viene in mente Monteverde perché è forse uno dei più isolati dei più lontani dal sistema centrale di questa provincia vedono lontanissima l'istituzione regione che a Napoli e che troppo spesso, non voglio fare una critica si occupa prevalentemente di macrosistemi più che delle zone periferiche del territorio come forse è giusto che sia e quindi diventa poi difficile relazionarsi con le istituzioni crescere e come dicevamo prima chiedere ai cittadini di rimanere su quel territorio o ospitarne di nuovi Assolutamente, io credo che nello schema della provincia come luogo di aggregazione dei comuni noi non solo diamo la possibilità ai sindaci e agli amministratori locali di sentirsi meno soli nell'ordinaria amministrazione perché evidentemente chi un po' come me si è occupato di enti locali sa che già la gestione di un bilancio per cassa è estremamente frustrante laddove i vincoli sono sempre maggiori i trasferimenti statali sempre minori per cui davvero i sindaci e gli amministratori locali fanno un lavoro faticosissimo avere la possibilità di un luogo come dire sovraordinato qual è il consiglio provinciale all'interno del quale possono essere definite strategicamente e come dire anche in termini economici messi a sistema delle risorse per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini a noi sembra uno schema che può funzionare Tra un po' parleremo soprattutto di politica e esuleremo da questa discussione che è più squisitamente territoriale che si occupa un po' più della situazione di questa provincia però prima di lasciarci un attimo mi viene da chiederle ne abbiamo parlato inizio trasmissione c'è ancora speranza per i giovani di questa provincia? Io sono un'ottimista sono un'ottimista e credo che la speranza possa vivere e debba essere soprattutto seminata laddove noi riusciamo a dire a chi vive in una provincia come la nostra che in tutte le aree interne c'è grande criticità grande sofferenza quello che abbiamo fatto noi è stato per esempio dire ai comuni di investire sulla banda larga perché la mia generazione forse è più convinta di altri che non dobbiamo tutti andare ad affollare le periferie delle grandi città ma forse possiamo provare a costruire il nostro futuro magari anche da lavoratori autonomi su cui pure abbiamo investito molto per continuare ad abitare lì dove vogliamo vivere con un tempo e un ritmo di vita che sia più gratificante per noi per cui io credo che ci sia speranza soprattutto nella misura in cui le istituzioni di questo nostro territorio si guardano melo l'ombelico e provano a lavorare meglio insieme ci auguriamo che sia davvero così che lo facciano realmente anche perché i cittadini hanno bisogno tra un po' torniamo con Valentina Paris Aladino esprimi un desiderio vorrei un buon caffè espresso chi ama il caffè trova quello che desidera da Expo Caffè il negozio di cialde e capsule compatibili e macchinette a marchio Borbone Lollo, Caffitali, Toraldo, Molinari e Nescafè vieni a trovarci e scegli Expo Caffè esprimi un desiderio espresso di fronte al casello autostradale di Grotta Minarda Info 0825 44 51 58 E siamo pronti a tuffarci con Valentina Paris candidata al plurinominale per la Camera dei Deputati nel collegio di Avellino Benevento alla quarta posizione diciamo nel Partito Democratico parliamo dell'aspetto un po' più politico e chiaramente questa legge elettorale viene attaccata da più parti soprattutto da chi questa legge elettorale non l'ha votata come un sistema che Crozza diceva prende quasi in giro la gente non vogliono farci capire nulla perché davvero spiegarlo è un po' complicato votare forse è un po' più più semplice questa legge elettorale risponde a quella richiesta che hanno fatto i cittadini di avere più potere e poter scegliere i propri rappresentanti o è una legge che come quella precedente è una legge che permette ai partiti di scegliere i propri rappresentanti e di piazzare nelle varie caselle nelle varie poltrone nei vari collegi chi meglio credono e chi meglio intendono sicuramente è una legge che non ha le preferenze come invece lo era l'Italicum che pure però è stata tanto vituperata come legge elettorale per cui diciamo che siamo un paese che fa fatica ad avere un comune sentire rispetto alle leggi elettorali soprattutto legate alle politiche noi che ovviamente avevamo proposto l'Italicum ben prima di un'eventuale campagna elettorale proprio perché credevamo fosse necessario un sistema che desse più spazio alla scelta dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti abbiamo dovuto evidentemente fare passo e invece prendere in considerazione l'unica soluzione che aveva dei numeri alla Camera e al Senato perché poi le leggi elettorali piaccia o non piaccia si fanno in Parlamento io credo che questa legge abbia due elementi migliorativi rispetto alla precedente da un lato è una legge largamente proporzionale e noi siamo un paese che nonostante la vocazione maggioritaria del mio partito ha invece una tendenza a separare le forze politiche e quindi a prediligere la rappresentanza particolare per cui io credo che una larga parte proporzionale sicuramente dia ai cittadini la possibilità di trovare più facilmente ciò che meglio corrisponde al proprio sentire e poi c'è un secondo elemento secondo me qualitativo e cioè che i nomi sono tutti scritti sulla scheda cosa che nel Porcellum evidentemente non c'era nel senso che ognuno di noi ricorderà che sulla scheda elettorale non c'era alcun nome nome che invece comparirà nelle schede elettorali che si troveranno la prossima domenica 4 marzo in cui appunto si troverà anche Valentina Paris al quarto posto ovviamente io auspico che rispetto ai meccanismi di elezione chi mi precede sia eletto altrove in modo tale che io possa scattare comunque a casa mia in Irpinia però è evidente che il fatto che i nomi siano scritti sulla scheda secondo me aiuta l'elettore questo indubbiamente chiaramente parlavamo del proporzionale che eleggerà due terzi dei rappresentanti alla Camera e al Senato mentre un terzo con l'uninominale la possibilità non era più opportuno forse fare due schede per la Camera e due per il Senato dividendo l'uninominale dal plurinominale dal proporzionale non era per semplificare anche la vita dei cittadini è davvero una semplificazione una scheda in più noi siamo in una fase del dibattito politico in cui si chiede ai deputati e agli eletti un vincolo di mandato una quota maggioritaria con un voto disgiunto probabilmente sarebbe andato in controtendenza con quest'altra richiesta dei cittadini per cui io credo che probabilmente almeno per quello che riguarda il PD noi avremmo potuto valutare la possibilità del voto disgiunto ma intanto ovviamente non c'erano i numeri perché dovendo fare la legge lì in quel Parlamento in quella Camera e in quel Senato non avevamo la possibilità di scegliere da soli dall'altro lato mi sembra piuttosto evidente che il vento anche come dire che contrasta i trasformismi non dava grossi margini per fare una valutazione di questo tipo e domenica lo dicevamo si va a votare i cittadini si troveranno queste due schede e leggeranno i loro rappresentanti però forse il rischio maggiore avendo tre grandi coalizioni centro-sinistra centro-destra e 5 stelle è quello che nessuna delle tre coalizioni nonostante quello che dicano i rispettivi vertici possa arrivare al 40% utile per formare un governo e per avere una maggioranza alla Camera e al Senato come se ne esce da questo si immagina già che cosa potrebbe accadere dopo il 4 marzo il 4 marzo ognuno di noi concorre per vincere e quindi per poter offrire al Presidente della Repubblica una coalizione che ha i numeri per formare un governo e lo confesso nelle settimane in cui si fa campagna elettorale ciascuno di noi lavora solo ed esclusivamente per questo per provare a vincere e per andare al fondo offrendo ovviamente quindi davvero nessuno immagina già alleanze particolari governi magari non sono immaginabili perché tutto questo lo si può valutare una volta tirate le somme e quindi emersi i numeri veri dato che per il momento noi stiamo parlando di numeri millantati per cui c'è addirittura chi pensa di potersi presentare in anticipo dal Presidente della Repubblica con una lista di ministri capisce che forse è opportuno invece aspettare il dato reale e poi anche se dice lo fanno per cortesia istituzionale assolutamente la cortesia è un fatto importantissimo però la cortesia istituzionale forse prevederebbe il rispetto della Costituzione e delle dinamiche parlamentari che vengono prima il centro lo d'esse sui rappresentanti anche quelli che abbiamo avuto qui ospiti come Pietro Foglia dicevano che sono gli unici a poter aspirare al 40% stessa cosa i 5 Stelle tutti parlano di un partito democratico in caduta libera un partito democratico che sarà fuori dai giochi per la vittoria delle elezioni è realmente così? credo sia sicuramente un auspicio di tutti i nostri competitor noi ovviamente abbiamo invece la serenità di poter rivendicare non solo il buon lavoro fatto in questi anni ma anche il fatto di essere gli unici che non hanno messo insieme cose che non si tengono e che hanno un'idea di futuro la campagna elettorale dei nostri avversari politici è stata fatta da un lato a parlare male degli avversari perché almeno dal Movimento 5 Stelle noi non abbiamo capito qual è l'idea di sviluppo e di futuro per il nostro territorio e per l'Italia intera dall'altro lato ahimè noi siamo di fronte ad una coalizione di centrodestra che ripropone se stessa dopo aver avuto loro sì la responsabilità di aver portato questo paese verso la crisi del Partito Democratico in questi anni si è detto tutto il contrario di tutto il peggio che si potesse dire e però c'è un fatto vero e cioè che nel 2013 quando a me è capitato in maniera davvero inaspettata di poter sedere tra i banchi del Parlamento questo era un paese che non poteva nemmeno più pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici oggi siamo un paese che non solo è in crescita ma che ha fatto scelte di sistema importantissime a partire dagli investimenti per il mezzogiorno potremmo non essere stati la classe dirigente che ha fatto segreterie ognuna nei propri territori ma siamo così orgogliosi di aver lavorato a servizio del nostro paese che oggi rivendichiamo soprattutto questo e su questo speriamo di essere valutati il Partito Democratico è un po' bistrattato da tutte le altre parti un po' è quasi un eufemismo mi sono volato basso come si suol dire in questi anni avete ricevuto anche tante critiche perché poi il Partito Democratico cosa ha fatto per il paese anche Renzi le parole usate qualche sera fa in tv dicendo anche se perdiamo non mi dimetto da segretario sono farsi un po' come mettere le mani avanti non è così realmente ma allora il Partito Democratico è l'unico di cui si discute a tutte le latitudini perché in effetti siamo l'unico soggetto politico che esiste e di questo siamo consapevoli anche un po' rassegnati è difficile parlare male degli altri se non c'è un punto di vista se non c'è una classe dirigente noi siamo evidentemente gli unici che riescono a parlare male anche di se stessi e forse questa è la sindrome di cui dovremmo liberarci almeno in campagna elettorale è chiaro che negli anni che abbiamo alle nostre spalle noi abbiamo pagato il prezzo molto alto di una rigenerazione della politica e delle classi dirigenti lo abbiamo pagato noi perché ce ne siamo assunti la responsabilità cosa che non è toccata né a chi ci ha preceduto nel centro-destra e nel centro-sinistra né a chi oggi si pone sulla scena come il nuovo necessario è evidente che per noi dire che la politica si deve e si può rigenerare è stato un sacrificio forse in percentuali lo pagheremo anche elettoralmente ma non potevamo fare diversamente perché se noi ostinatamente diciamo che la politica è a servizio dei cittadini perché può migliorare le condizioni di vita dei cittadini dovevamo solo occuparci di rigenerarla anche a costo di sentirci dire poi magari pure da qualche collega che ha falsificato un bonifico che eravamo noi delinquenti e mafiosi ahimè è successo anche questo al di là di delinquenti e mafiosi ve lo dobbiamo dirlo e mi viene in mente la pubblicità che avete fatto per il voto però stanno sempre a litigare tra di loro dice quel padre di famiglia che non è proprio convinto di votare il partito democratico assolutamente l'ho detto anch'io prima e lo dicevo una sua collega che due giorni fa è stata ospite di questo nostro salotto il centro-destra ha forse un merito quello di presentarsi nonostante le liti le divisioni le discussioni nonostante il fatto che non sappiano davvero cosa vogliano Berlusconi pensa che Tajani sarà il leader Salvini dice farà un governo suo però hanno il merito di essersi presentati uniti alle elezioni il partito democratico invece si divide facilmente abbiamo visto recentemente la fuoriuscita dei vari Grasso piuttosto che Bersani piuttosto che D'Alema e a formare subito una nuova forza politica che più che orientata a dare un peso sembra per molti orientata a far perdere il partito democratico perché accade questo? Ma c'è sempre stata una differenza sostanziale nel centro-destra in qualche modo si sceglie chi comanda e adesso viene delegata poi anche la capacità di tenere insieme questo è stato il ruolo di Berlusconi per decenni nel centro-destra nel centro-sinistra noi abbiamo avuto percorsi naturalmente più tortuosi perché abbiamo messo insieme chi storicamente nel nostro paese si opponeva e quando io ho scelto di aderire al partito democratico dieci anni fa le cose che mi venivano dette da destra e da sinistra è ma come fa un comunista a mettersi con un democristiano dieci anni fa di fatto nella quotidianità di questo paese non esistevano più né i comunisti né i democristiani perché c'erano già state evoluzioni la storia del centro-sinistra è una storia di cambiamento è una storia progressista è una storia di riformatori e quindi ahimè è anche una storia in cui non si riesce a non manifestare il conflitto ma se non facessimo così saremo meno democratici per cui anche di questo dobbiamo essere orgogliosi io preferisco sempre un centro-sinistra che discute che magari si divide piuttosto che un centro-destra che pur di manifestarsi unito prende in giro gli italiani lei parlava del fatto che durante la campagna elettorale ognuno pensa a come poter vincere ognuno concorre per vincere quindi non si immaginano alleanze ma se il centro-sinistra il partito democratico dovesse vincere con chi si presenterà con che nome si presenterà da Mattarella Gentiloni Renzi chi farà il nuovo governo? Noi su questo non dobbiamo essere ipocriti sappiamo bene che c'è una simpatia degli italiani verso l'attuale primo ministro che oltre ad avere una tessera del partito democratico è anche un autorevole candidato del partito democratico per cui come abbiamo detto più volte abbiamo una squadra davvero credibile perché c'è un'antipatia per Renzi ultimamente ahimè nel senso che come spesso accade in Italia si odia di più chi si è amato tantissimo perché è uno dei dei segretari nella storia del partito democratico che ha preso più voti quando si è candidato alle primarie per cui coesiste sempre questo sentimento nel nostro essere cittadini italiani che si appassionano e poi si allontanano il partito democratico fortunatamente ha una squadra credibile per cui com'è tradizione di chi è democratico e discute il segretario nazionale dopo che avremo vinto speriamo le prossime elezioni convocherà una direzione e decideremo quale sarà la strada migliore da percorrere esattamente come abbiamo fatto nei cinque anni che abbiamo alle spalle diciamo che tornando sempre a due sere fa la sua collega che era capolista della sua lista dice noi siamo una squadra coesa in cui tutti fanno la propria parte tutti si sentono rappresentati tutti hanno voglia di arrivare all'elezione però per lei che è candidata al numero 4 c'è la stessa grinta la stessa voglia la stessa voglia di sfida di arrivare a vincere le elezioni o comunque essendo candidata in un ruolo marginale in cui c'è meno possibilità di essere eletta in Parlamento a meno che quelli davanti a lei lo dicevamo prima non dovessero rinunciare c'è la stessa voglia c'è la stessa determinazione soprattutto c'è più determinazione perché noi non abbiamo voglia di vincere per noi stessi noi stiamo facendo una campagna elettorale per continuare a portare questo paese verso la strada della speranza e della crescita quindi il punto non è dove siamo candidati individualmente il punto è la partita in gioco la partita in gioco è non tornare indietro continuare ad andare avanti su una strada di crescita e di sviluppo per l'Italia e questo lo facciamo tutti con grandissima determinazione la diplomatica Valentina Paris al di là di questo molto diplomatica come risposta chiaramente al di là di questo volevo tornare un attimo sull'aspetto irpino del voto due collegioni nominali alla Camera dei Deputati due candidati che non sono del Partito Democratico anche questo i vostri elettori ma anche gli avversari ve lo hanno rinfacciato perché due su due sono andati agli alleati e non al PD e soprattutto perché il PD ha concesso agli alleati tutti e due i collegi della Camera dei Deputati in provincia di Avellino ma guardi probabilmente perché l'Irpinia è dentro un sistema regionale piaccia o non piaccia a tanti Irpini in cui noi abbiamo misurato l'organizzazione dei collegi sulle cinque province della nostra regione e quindi ovviamente rispetto agli alleati nazionali perché come mi insegna chi fa politica e chi ha fatto politica per tanti anni le coalizioni si costruiscono nazionalmente qui c'era dello spazio che dovevamo necessariamente dare agli alleati non è stata certo una scelta fatta a cuor leggero né tantomeno una concessione obbligata se fai un'alleanza nazionale ovviamente di conseguenza devi accettare che in Irpini a due collegi vadano agli alleati come è toccato a tanti miei cari compagni di avere Casini candidato al Senato a Bologna pur essendo e rivendicando loro una forza assolutamente di sinistra siamo una coalizione abbiamo ritenuto di dover avere una coalizione ne abbiamo discusso tanto dentro il Partito Democratico ovviamente queste sono scelte che se si fanno dentro una cornice nazionale poi a poco serve anche come dire la lettura un po' triste di quanto siamo stati bistrattati in Irpinia anche se lei la legge così però ha lasciato molti scontenti questa decisione anche all'interno del Partito Democratico candidati in pectore che si sono sentiti traditi c'è chi ha parlato di tesserati che strappavano le testere del Partito Democratico per rabbia nei confronti di questa scelta delle candidature e per un partito che veniva e viene ancora da una fase di commistariamento in cui non si è riusciti a scegliere i vertici davvero rischia di si rischia di pagare un prezzo alto è d'accordo? in realtà gli unici due candidati in pectore del Partito Democratico di questa provincia dovevamo essere io e l'onorevole Famiglietti in quanto deputati uscenti alla prima legislatura e stiamo facendo la campagna elettorale come se fossimo candidati capolista io alla Camera e lui al Senato perché così si fa perché la politica vive anche di esempi però sì è probabile che noi pagheremo in termini elettorali le amarezze di alcuni guadagneremo forse divisione politica e di credibilità della politica che vale molto di più siamo quasi arrivati in conclusione prima di chiederle in maniera autoreferenziale perché votare Partito Democratico e perché votare Valentina Paris volevo chiederle che risultato si aspetta veniamo da una fase lo dicevamo prima in cui il Partito Democratico ha avuto tante difficoltà a livello di circolo a livello di commissariamento ma le ha avute anche nella città capoluogo dove Foti non è stato tra gli amministratori più amati le ha avuti in tante realtà della provincia si aspetta ancora un Partito Democratico in grado di reggere in questa provincia in grado di dare quel supporto che avete sempre avuto si aspetta un risultato diverso io mi fido molto della comunità delle democratiche e dei democratici e quello che di bello è accaduto in queste quattro settimane è che la realtà della militanza era completamente diversa dal racconto di un partito spento questa è una comunità che ha riorganizzato i propri circoli che ha riorganizzato la propria rete degli amministratori ed è un partito che è in campo e io mi fido soprattutto di loro perché ovviamente sono quelli che non hanno ansia di essere davanti ai riflettori ma lavorano quotidianamente per raccontare quello che è stato fatto e l'idea di futuro che abbiamo per cui immagino che grazie al loro lavoro noi potremo reggere anche questa volta quindi nel vostro rally avete trovato risposte positive ma devo dire noi abbiamo fatto meno rally perché poi insomma noi parlavo di rally perché l'ho detto Famiglietti che con la sua macchina ha fatto realmente un rally rispetto lui ha evidentemente girato tanto e sono convinta che abbia avuto la mia stessa percezione cioè di poter incontrare tante democratiche e tanti democratici che non ci faranno mancare il loro sostegno noi siamo arrivati in conclusione anche di questo appuntamento con Irpini al lavoro perché Valentina Palis chi ci ascolta chi ci ha guardato anche stasera dovrebbe decidere di votare Partito Democratico e dovrebbe decidere di votare Valentina Palis Il Partito Democratico è un soggetto politico che si è fatto carico di rimettere in piedi questo paese nei cinque anni che abbiamo alle spalle abbiamo lavorato guardando qual era la realtà delle condizioni delle cittadine e dei cittadini e abbiamo messo in campo misure che fossero a servizio dei cittadini dal reddito di inclusione alla maternità e alla malattia per i lavoratori autonomi perché sappiamo quali sono le criticità che ciascuno di noi vive nella propria quotidianità chiediamo il voto e chiediamo di votare Partito Democratico proprio perché vorremmo continuare a dare una mano al futuro e dare una speranza a questo paese ovviamente io che sono come è stato ricordato in coda di lista sono certa che chi mi precede sarà candidato altrove per cui auspico un ottimo risultato per il Partito Democratico che potrà vedermi di nuovo in Parlamento e quindi anche per questo chiedo il voto bene così e con la presenza di Valentina Palis noi concludiamo il percorso di Irpini a lavoro dedicato alle elezioni abbiamo incontrato davvero tanti candidati in queste settimane speriamo di avervi dato una mano quantomeno onorevole Paris a poter scegliere ad avere un riferimento preciso anche perché lo diciamo anche con i suoi candidati forse molti dei cittadini che andranno al voto voi per un motivo voi per un altro realmente hanno le idee confuse e certo le vostre divisioni le liti non parlo di Partito Democratico ma parlo di classe politica in generale e le tante accuse mosse dall'una e dall'altra parte che forse in questa fase hanno superato le discussioni sugli argomenti a cui i cittadini hanno a cuore non hanno aiutato chi è a casa a farsi un'idea politica più chiara da questo punto di vista chi come voi fa informazione ci dà la possibilità di raccontare un po' quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo in mente di fare è il supporto migliore per i cittadini e quindi grazie anche per questa opportunità si aspetta una risposta molto forte dell'astenzionismo ancora maggior partito o davvero potremmo avere più gente che va a votare un riavvicinamento alla politica è un'elezione complessa da questo punto di vista ciascuno di noi sia perché c'è una legge elettorale nuova sia perché è forte la disaffezione verso la politica fa fatica a quantificare coloro che sceglieranno di non recarsi al voto io soprattutto a loro mi sento di dire qualunque cosa poi scegliate di qualunque cosa vi convinciate esercitatelo questo diritto e questo dovere perché questo rende la nostra democrazia più forte bene così stavolta abbiamo finito davvero grazie a Valentina Parisi per essere stata in nostra compagnia grazie a tutti voi per averci seguito il Pini al lavoro torna settimana prossima venerdì alle 21 sulla web tv di Irpinia News buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti